Ciao gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen ragazzi il video di oggi riguarda Pro Club su FIFA 16 vi ho portato in questo video una raccolta di gol che ho fatto giocando con i miei amici visto che abbiamo una squadra e giochiamo spesso insieme ho pensato di farvi appunto una raccolta di tutti i vari gol che abbiamo fatto in diverse serate passate in compagnia mi scuso anticipatamente per il linguaggio che non è quello che siete abituati a sentire nei miei video perché è un linguaggio da parte mia soprattutto abbastanza colorito quindi mi scuso anticipatamente se per caso vi capita di sentire qualche parolaccia mi raccomando ragazzi lasciate like, commentate, condividete questo video se non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo con i prossimi video qui da AngeloNero83 tutto e ciao gamers wow buonissimo bravo bravi 144 cambia ok sii puttana sii sii che passaggio puttana grande pancrazio oh no puttana madonna cì c'è un po' più forte l'avvio sbagliato 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 guarda lo fai forte in bagliata sbagliato ma anche qui sbagliato 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 il portiere è proprio addormentato il portiere del portiere del portiere al centro Matteo si va bene si pigliatelo pigliatelo si 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 bravi ragazzi si 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 bellissima e Basilico il cuore è tornato eh è la madonna minchia ragazzi vai che sei buona guarda anche quante cose sono si ok ma si guarda anche quante cose gol si ok purtroppo si trova gente così buonissima oh dammi palla vai ma tirala bombala si 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 bravo si dai ragazzi sai si si aspetta 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 ok madonna come come ecco ecco stiamo a liberarco qui guarda qua vai tira sii cazzo dai buona Mattei guarda Marco alto c'è anche il luto andai in alto benissimo bellissimo Marco grande collo si bello si tira tira oh si inglese qua in italiano bello casi casi no 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 10 si 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 raffinare un po' la tecnica vai da si 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 si